A chi pensa che le armi democratiche pacifiche siano terminate, esistono ancora, mi sottopongo a questo sforzo per dimostrare che possiamo ancora vincere semplicemente utilizzando le armi che ci sono rimaste. Questa è una di quelle e la porterò avanti fino alla fine. Dall'altra, nei confronti del Consiglio regionale, che inizia almeno da parte di qualche membro del Consiglio regionale, a parlare di democrazia energetica. Per me queste sono parole importanti perché la parola democrazia è la parola grande assente all'interno di questo Consiglio regionale. La legge iniziativa popolare Pratobello è il più grande esercizio democratico in Sardegna, in Italia, forse anche in Europa e pretendiamo quindi che venga data la giusta importanza e il giusto ruolo a questa legge. Fino ad ora abbiamo sentito solamente parlare di legge a redone, che è una legge che ci viene imposta dall'alto. Noi vorremmo invece che questo Consiglio regionale, come espressione del popolo sardo, dia priorità e urgenza a una legge di iniziativa popolare. L'iter dovrebbe essere quello d'urgenza. Vorremmo che questa legge venga discussa. Se è necessario modificarla, il Consiglio si assumerà la responsabilità di modificarla con tutte le conseguenze delle modifiche. Noi siamo qui e inizieremo il presidio già da stasera per monitorare l'iter sia della legge a redone sia della legge Pratobello affinché venga posto fine una volta per tutte la speculazione energetica.